L'accordo irregolare diventa nel momento in cui gli intervalli di terza che andiamo a sommare dalla tonica che dà il nome all'accordo sono della stessa entità. Partiamo sempre da Do. Nel momento in cui io aggiungo a questa mia nota fondamentale un intervallo di terza maggiore 1, 2, 3, 4 ed un ulteriore intervallo di terza maggiore 1, 2, 3, 4 automaticamente generiamo un accordo irregolare che è la triade aumentata. La triade aumentata nella nomenclatura anglosassone la troverete scritta così. Nelle partiture di musica pop, tra virgolette, partiture italiche potrete trovare anche una dicitura di questa maniera qui. Però come vedete questo più vicino alla fondamentale della mia triade indica proprio questa quinta aumentata. Grazie a tutti.